Cari telespettatori di Antenna Sud, ben ritrovati all'appuntamento in cui passiamo in rassegna valori minimi e massimi secondo le previsioni astrologiche di segno per segno. Cominciamo subito dalla riete per cui il tempo è incerto. I nati di marzo potrebbero trovarsi di fronte ad un bivio sentimentale molto importante. La scelta è delicata e non va fatta seguendo solo il vostro impulso. I pianeti vi invitano a riflettere. Nuvoloso per il toro, gli errori di valutazione sono sempre in anguato quando la mente viene assorbita da problemi di natura emotiva. La luna vi rende distratti e poco concentrati su ciò che dovete fare, attenti ai sogni ad occhi aperti. Schiarite nel cielo dei gemelli. La luna vi regala grandi possibilità di trasformazione. Dimostrerete di essere all'altezza di ogni situazione grazie al vostro spirito ironico e brillante. Sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante da valutare. Mari mossi per il segno del cancro. Potrete gestire tutti i vostri impegni nella maniera più organizzata possibile. Sul lavoro sarete delle vere e proprie macchine da guerra, pronti anche a dispensare consigli e suggerimenti ai colleghi in difficoltà. Per il leone cielo grigio, a causa dell'opposizione della luna, i dubbi e i pensieri negativi potrebbero rovinarvi la giornata. Potreste diventare eccessivamente sospettosi nei confronti della persona amata e farle delle inutili controproducenti scenate di genosia. Per la Vergine si prevede nebbia. Mercurio vi porta a guardare con eccessivi timori verso il futuro. Cercate di vivere alla giornata e vedrete che, come per magia, tutte le paure e tutti i dubbi si scioglieranno come neve al sole. Per la bilancia il tempo è variabile. La luna, in aspetto positivo, aumenterà la vostra sensibilità nei confronti degli altri. Darete prova di grande capacità di ascolto e di comprensione in una situazione in cui non siete direttamente coinvolti. Sbalzi di temperatura si prevedono per voi dello scorpione. L'unico modo per migliorare le cose è rimboccarvi le maniche, anche se in questo momento vi sentite completamente demotivati e scoraggiati. La luna aumenta la stanchezza, ma potete superarla se farete un piccolo sforzo. E' sereno il cielo del sagittario. All'interno del vostro luogo di lavoro ormai siete diventati un pilastro importante. Siete capaci di sostenere e di ispirare tutti con il vostro ottimismo. Oggi poi avete modo anche di divertirvi con i colleghi. Per il capricorno, mari agitati. Non irrigiditevi troppo sulle vostre posizioni. La testardaggine in certi casi può essere veramente controproducente. Questo non vuol dire che non dobbiate essere tenaci e determinati. Semplicemente non esagerate, con ripicche inutili. Il clima si prevede mite per il segno dell'acquario. Malgrado il clima esterno non sia poi così caloroso, voi saprete illuminare e riscaldare la giornata con i vostri splendidi e irresistibili sorrisi. Eventi e rinforzo infine per i pesci. Si preannuncia una giornata molto vivace. C'è la possibilità di stipulare nuovi e utili contratti e acquisire informazioni interessanti e riservate. Come accedere a certi segreti? Siete maestri nel farlo. Io dopo questo oroscopo vi auguro una buona giornata. Naturalmente l'appuntamento è rinnovato a domani mattina. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.